A Favara, docenti e personale ATA stanno già ricevendo il vaccino anti-covid-19. Le vaccinazioni sono cominciate sabato scorso. Si svolgono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, mentre sabato è domenica la mattina. A ricevere la dose vaccinale AstraZeneca è il personale scolastico delle scuole di Favara con età fino a 65 anni. Nei giorni passati, i dirigenti scolastici avevano comunicato all'ASL e al poliambulatorio della città alcuni elenchi del loro personale interessato a vaccinarsi, elenchi in continuo aggiornamento. Saranno poi dal poliambulatorio a comunicare quando presentarsi. Le prime convocazioni sono state già inviate alle scuole per la giusta informazione al proprio personale. I vaccini sono somministrabili al personale che non è dichiarato estremamente vulnerabile. L'ASL cataloga così le persone affette da condizioni preesistenti che hanno un rischio particolarmente alto. Rientra in questa categoria chi soffre di patologie come malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, diabete, endocrinopatie severe come il mormo di Addison, fibrosi cistica, malattie renali o epatiche, malattie autoimmuni, cerebrovascolari, patologie del sangue, sindrome di Down, trapianti, grave obesità. Saranno comunque direttamente i medici del poliambulatorio a fornire le dovute informazioni caso per caso. Siamo stati sul posto e abbiamo seguito le operazioni. Prima di cominciare diciamo subito che dagli uffici del poliambulatorio stanno davvero facendo un grossissimo lavoro con sforzi non indifferenti. Questo sta permettendo di procedere in maniera celere e serrata alle vaccinazioni. Un plauso va ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario e amministrativo. Pensate che in altre realtà siciliane non si è nemmeno ancora all'alba, mentre a Favara si procede speditamente. Abbiamo pure visto il dottore Salvatore Montaperto sommerso dalle carte mentre riusciva nel contempo a organizzare tutto al meglio. Ma come si svolge la campagna vaccinale? Dopo aver atteso il proprio turno all'esterno dell'edificio, il primo step sarà quello dell'anamnesi. Un medico farà le prime domande per scremare chi può fare il vaccino e chi invece no. Chi passa il primo step sarà poi vaccinato con la prima dose del siero AstraZeneca. La seconda dose verrà poi somministrata dopo circa due mesi e mezzo. Chi non passa il primo step viene inserito in un secondo elenco e al momento dovrà attendere. I pazienti che devono aver somministrato il vaccino, la prima postazione che incontrano appunto è proprio questa di qua. Qui noi effettuiamo una sorta di scrematura dei pazienti per capire se il vaccino AstraZeneca è somministrabile. Facciamo loro delle domande per capire se hanno determinate patologie o delle determinate controindicazioni alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e se idonei si procede poi alla vaccinazione. Qualora i soggetti non siano idoni alla vaccinazione con questo tipo di vaccino, verranno inseriti in un'altra lista che poi verrà comunicata alla scuola per la somministrazione di un vaccino alternativo. La gente che deve fare il vaccino è convinta della propria scelta, la popolazione sta rispondendo abbastanza bene perché comunque tiene conto del fatto che l'unica arma che noi abbiamo per combattere questo virus che ha provocato la pandemia, che nell'ultimo anno ha cambiato la vita di tutti noi. Quindi la gente con molta speranza si reca qui a fare il vaccino perché è l'unico modo che abbiamo per combatterlo, il virus. I vaccini possono essere effettuati in questa sede dal lunedì al venerdì di pomeriggio, dalle tre e mezza in poi e invece il sabato e la domenica di mattina. In pratica le scuole forniscono a noi elenchi, poi noi stabiliamo chi del personale deve essere contattato per poter effettuare il vaccino. Ricordiamo che chi ha fatto il vaccino non è già immune, dovrà comunque continuare a osservare le consuete precauzioni prescritte per tutti, come l'utilizzo delle mascherine facciali, del gel per la disinfezione delle mani e prestare attenzione al distanziamento interpersonale. Abbiamo sentito diversi docenti che ci hanno raccontato la loro esperienza sia prima che dopo il vaccino. Mi avete colto sul fatto, sì, era giusto farlo, era un dovere farlo da cittadino oltre che da professionista nel mondo della scuola perché siamo a contatto con i ragazzi, bisogna avere rispetto per la comunità scolastica, per la comunità tutta ed è giusto che dopo aver fatto i tamboni, gli screening preventivi, è giusto aderire alla campagna di vaccinazione. Speriamo che tutto vada bene e invito tutti a registrarsi e a farsi il vaccino. Molti si fanno immortalare durante la somministrazione del vaccino, visto che il vaccino l'ho appena fatto, se l'è portato un fotografo personale? No, e non è neanche ho fatto un selfie, non è che non è valido, cioè non vorrei che l'annullino, no, 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 però l'ho fatto, vi assicuro che non troverete fotografia ma l'ho fatto. Tutto bene, almeno fino adesso. Bene, bene, sono contenta di averlo fatto, lo aspettavo. Bene. Benissimo, benissimo, è giusto farlo, il senso civico innanzitutto, quindi va bene così, tutto a posto. Allora, intanto è un'attesa veramente voluta, anche perché io in questi giorni ho accompagnato i miei genitori all'ospedale di Agrigento per fare il vaccino a entrambi 80 anni ed era veramente un bel vedere tutti quegli anziani. Adesso è il mio turno e con molto piacere, con molto senso civico nei confronti della mia scuola, della mia cittadinanza e soprattutto nei confronti di me stessa vado a vaccinarmi senza sé, senza perché, senza ma, volutamente, con tutto il cuore non vedevo l'ora. Grazie. Grazie.